Musica Truffe agli anziani, l'antitodo, magari ci fosse ma voi arma dei carabinieri ci aiutate. Lei comandante è il docente d'eccezione per questo incontro qui al Polivalente di Santeramo insieme ai Sentini della Legalità, un'associazione che lei conosce molto bene. Sì, felice di essere stato invitato per questa manifestazione, per questo incontro con le persone anziane, vittime in questi ultimi giorni di una serie di truffe odiose perché colpiscono loro nella loro intimità e negli affetti, nei beni più cari. Questo incontro cercherà di dispensare alcuni utili consigli per evitare di incorrere in questi reati. Lei è il comandante della compagnia di Altamura dove Santeramo rientra a pieno diritto, insomma fa parte e anche questa zona è stata un po' toccata da questo brutto fenomeno. Molti non sono qui in questo momento. Tre cose da dire a chi sta guardando la tv in questo momento. Guardi, per la verità, le statistiche di questi avvenimenti sul territorio della compagnia Carabinieri di Altamura e in particolare della cittadina di Santeramo non ci restituiscono un quadro allarmante, anzi direi che non ci sono denunce o si possono veramente contare sulle dita di una mano. Ecco, io voglio ben sperare che in effetti il fenomeno qui non abbia questa incidenza che invece registriamo nel territorio dell'area metropolitana più in generale. Però ho timore anche che si tratti semplicemente di difficoltà da parte di chi subisce questi reati nel farli emergere e cioè nel denunciarli. E quindi invito innanzitutto la cittadinanza, le persone più deboli, magari accompagnate anche da un parente, a trovare il coraggio quantomeno di portarsi presso i nostri uffici e denunciare ciò che è accaduto. E' il primo passo essenziale per poi avviare un itero investigativo che, fortuna e perché no, anche bravura dei nostri inquirenti porterà all'individuazione dell'autore e magari anche alla restituzione del maltolto. Noi la ringraziamo per questa breve flash. Prima di cominciare il Salone è stracolmo di gente, evidentemente la presenza delle istituzioni, la presenza di chi ci dà sicurezza. Colgo l'occasione per salutare la stazione dei Chiribinieri di Santeramo, il maresciallo Falagario che lui è la nostra sentinella. Le auguro una buona conferenza e come sempre buon lavoro. Grazie, grazie, buonasera. Tra poco comincia l'incontro qui con l'Arma dei Carabinieri per parlare di truffe, di reati, di tutelare la fascia debole. Insieme alla conferenza c'è anche la visione di un prodotto video realizzato dalla Confessor Centi. Di che cosa si tratta? E' un video denuncia, in pratica, tra virgolette, chiaramente. Noi della Confessor Centi abbiamo voluto dare testimonianza, magari anche un forte messaggio alla legalità, sensibilizzare anche tutti i cittadini ad un senso civico maggiore e di responsabilità, sia su se stessi che anche sugli altri, chiaramente, perché tutto deve partire anche da noi. Se non siamo civili noi stessi e non diamo il buon esempio, non credo proprio che gli altri possano apprendere. E comunque sì, abbiamo voluto, che appunto con questo senso civico, far cadere la barriera, magari, dell'omertà. Le famose tre scimmie, non sento, non vedo, non parlo. Ecco, non ci dobbiamo sempre girare dall'altra parte. Quando vediamo degli atti criminosi o, in questo fresco di questi giorni, anche di abusivismo. Allarghiamo tutto il rispetto anche agli ambienti commerciali. Ovviamente noi contiamo, sia a livello criminoso che anche a livello di abusivismo, che ci si mettano tutti in regola. Non è vero che se non fanno quel poco di abusivismo non si va avanti. Io credo che con la piena legalità si riesce tutti quanti ad andare avanti. Rispetto delle regole, sicuramente sì, per la Confesercenti, lei è il Presidente. Come sta andando la sua, veramente brevissimamente, la sua associazione, questa sigla che racchiude molti esercenti di Santeramo. Da qualche tempo siete presenti, cosa si sente di dire? Beh, ovviamente si sente parlare bene perché, oltre ai famosi eventi che stiamo cercando di costruire, lì dove non c'è un paese con dei monumenti, cerchiamo di attirare su Santeramo e ovviamente a noi il turista con degli eventi, stiamo anche sviluppando attività sindacale, chiaramente, che può essere il discorso fresco di oggi anche della Tari. Di questo ne parliamo. Poi ne potremo parlare. Prego. Vicepresidente della sezione di Santeramo Sentiri della Legalità, ancora un evento qui a Santeramo che ha richiamato tantissima gente. Che cosa ci può dire di questo incontro, professor Tunzi? Buonasera. Ovviamente festeggio l'evento come un qualche cosa che ci vede nuovamente protagonisti. Sulla legalità non si scherza. Il tema della serata la dice lunga. Conoscersi per difendersi. Ovviamente potrebbe essere esteso in qualsiasi parte. e manco a farla apposta, questa sera riguarda il tema sulla frode, sulla frode generalizzata, su quelli che potrebbero essere gli indifesi, i deboli, quelli che non hanno una cultura telematica, non hanno la cultura del... però hanno tanto, tantissimo da dire. E ovviamente, come ho detto prima, sono i più indifesi. Tocca a noi, tocca a queste associazioni, tocca alla nostra associazione dare un segnale forte per quanto concerne il rispetto delle regole e ovviamente le tutele che riguardano questi soggetti e nello specifico le persone e le persone anziane. Fermo restando che dovremmo essere tutti proprio intrisi di una legalità che ci vede protagonisti sia nel dare che nel ricevere. Ovviamente partendo dalla cosa pubblica, partendo da una situazione molto semplice, quella del diritto, del diritto ad essere tutelati in un paese in un paese che è sicuramente un paese civile. Però, ahimè, a volte le cronache, a volte quello che quotidianamente, anche dal vicino di casa, ci vede un attimino protagonisti in qualche cosa che non riguarda quello che ho detto prima, cioè il diritto nelle tutele, nel rispetto di quello che automaticamente dovrebbe essere un percorso di persone civili in un paese civile. Noi ringraziamo i sentieri della legalità, so che a macchia d'olio intanto si è aperto sedi un po' in tutta Italia, in maniera particolare informa i giovani, ma anche informare le persone come i giovani che sono gli anelli deboli della società sicuramente le fa onore, fa onore all'associazione. Beh, io non voglio ripetermi, il tema è il tema, cioè proprio queste due parole sono fondamentali, conoscere per difendersi, e difendere anche questa, grazie della domanda, Presidente di Santeramo, innanzitutto, perché questi ragazzi, figli di un'era particolare, è come se hanno bisogno di difese, di difese quotidiane, e lo dice chi insegna da tantissimi anni in una scuola dove il target dello studente è quello particolare, quello che ha più bisogno di riferimenti, di punti di riferimento, di riferimento che lo guidano e lo portano proprio a difendersi, perché a volte mancano questi presupposti, questi pilastri che consentono al ragazzo di difendersi, e ciò non può non passare da un qualche cosa che si chiama semplicemente legalità, buone prassi, rispetto, rispetto civile, io lo do, tu lo dai, e noi giornalmente contiamo situazioni che proprio sono la deriva di quelli che sono i presupposti essenziali di un vivere civile e, lo dico proprio nel mio specifico, la classe è il punto di riferimento dove si devono applicare le regole, come è il punto di riferimento il tema di stasera con persone adulte, con persone anziane e quindi indotte a essere a volte maltrattate, oltraggiate e offese. Ingegner Francesco Petruzzellis che dirige questa struttura comunale che ci ospita, oggi ospita l'Associazione dei Sentieri della Legalità, ospita la conferenza, l'arma dei Carabinieri, so che state andando alla grande nonostante la presenza sul territorio da pochissimo tempo. Certo, sì, sono appena 3-4 mesi da novembre in cui data, diciamo, l'inizio di apertura di questo centro, la programmazione è molto fitta, la risposta è stata molto alta da parte degli utenti, degli over 65, quindi le iniziative stanno praticamente sovrapponendosi l'una con l'altra e oggi siamo felici per la seconda volta di collaborare con i Sentieri della Legalità e con questa splendida iniziativa che ci è stata posta e noi siamo sempre felici di ospitare chiunque. Ma evidentemente c'era un gap da colmare, questo bisogno di sicurezza, perché ho visto che la sala è strapiena, evidentemente abbiamo anche centrato il tema. Certo, manca ancora qualche minuto all'inizio perché non è che è strapiena, dovremmo fare l'esodo perché sicuramente il gap c'è, il problema della sicurezza è un problema fondamentale soprattutto negli anziani, non solo nei giovani, ma soprattutto negli anziani, negli anziani soli, e il problema delle truffe praticamente credo che avanti eri abbiamo appreso dal giornale che c'è... Quelli che denunciano perché poi c'è un sommerso perché poi c'è un sommerso che spesso hanno anche vergogna di far emergere. Prossima iniziativa? Prossima iniziativa abbiamo una gita la settimana prossima di pellegrinaggio alla Madonna di Picciano perché qui è molto semplice. Un cult. È un cult per i santermani. Poi ci sono i preparativi per la festa di Santerasmo e una novità, un progetto col coni che partirà il 30 maggio, lo dico in anteprima anche se non lo dovrei dire, sulla passeggiata nello sport con gli over 65. Grazie per lo scoop. Noi auguriamo buon momento ricreativo per tutti e buon lavoro a chi collabora con lei nella realizzazione di tutte queste iniziative importanti. Io ringrazio naturalmente il Comune di Santermo che ci ha dato la possibilità. Voi che siete sempre disponibili con il vostro lavoro a divulgare sempre le buone e le cattive notizie e naturalmente colgo l'occasione per ringraziare da parte della Villa dei Pini IRT SPA di Cassano che gestisce questa struttura. Grazie. Prego.